Siamo con Paolo Pistoni, CEO di Agenzia Impresa, sponsor qui al Digit 2019 al Teatro Eliseo. Qual è il core business? A chi si rivolge Agenzia Impresa? Il core business di Agenzia Impresa sostanzialmente è quello di sviluppare sul territorio professionisti che siano in grado di portare l'innovazione tecnologica che sta subendo il nostro paese in modo anche importante ormai. Il nostro obiettivo è quello di dare ai nostri partner soluzioni software e soprattutto poi anche competenza perché per poter fare questo tipo di attività che secondo me possiamo anche definire una nuova professione, oltre che avere chiaramente un'infrastruttura software occorre avere anche le informazioni, la capacità di portare tutto quello che la normativa oggi ci consente di poter fare e conseguentemente bisogna lavorare fortemente sull'apprendimento delle nuove norme. Poi la nostra rete ha l'ambizione di portare questa innovazione e organizzazione digitale soprattutto per le imprese, piccole PMI chiaramente o anche grandi imprese all'interno delle quali siamo in grado appunto di apportare e fare progetti proprio dedicati alla trasformazione digitale nell'ambito dei documenti amministrativi e fiscali di imprese.